Avviso scoperto, l'informazione senza veli con Matteo De Micheli. E oggi affrontiamo un argomento che è di estrema attualità, ovvero il 5G. Se la regia per favore può mettere la prima slide, il 5G e i problemi, i potenziali rischi per la salute. Se per favore, eccola qui, questo è l'articolo di REC News che si intitola 5G e i rischi per la salute. Il dottor Agostino di Ciaula, ISDE, fa chiarezza, intervista e infografica. La tecnologia che sta entrando nelle nostre tasche, nelle nostre case per mezzo di smartphone, tv ed elettrodomestici, è più un'opportunità o un rischio? Lo abbiamo chiesto al Presidente del Comitato Scientifico dell'International Society of Doctors for Environment. Ecco, dottoressa Bartucca, è più un rischio o più un'opportunità in base a questa intervista? Diciamo che il dottor Di Ciaula lo spiega bene, spiega l'argomento sotto i vari profili che lo compongono, che lo caratterizzano. Io ho realizzato questa intervista, devo dire, qualche tempo fa, però è ancora molto attuale, perché le tematiche sono ancora molto dibattute e anche molto controverse. Anzi, consiglio chi segue la trasmissione, consiglio di leggerla perché riguarda poi un po' tutti. Credo che rappresenti poi uno dei capisaldi su quanto è stato scritto in materia di 5G, sia per l'esaustività con cui il dottor Di Ciaula, che è Presidente del Comitato Scientifico dell'ISDE, espone gli argomenti, sia anche per gli spunti di riflessione che si possono otrarre. Cosa evidenzia il dottore nel pratico? Fondamentalmente che l'esposizione alle frequenze del 5G, che si stanno via via sommando a quelle già esistenti, è unita all'esposizione a una moltitudine di ripetitori, può avere ripercussioni sulla salute umana, sugli insetti che sono utili al benessere dell'ecosistema e sulle piante. Nel corso dell'intervista vengono spiegati poi nel dettaglio i motivi che sono alla base di queste considerazioni. Si parla poi anche, una cosa molto importante, delle onde millimetriche, che secondo alcuni studi possono alterare i meccanismi che sono alla base del funzionamento delle cellule e portare addirittura ad alterazioni dei geni e dei cromosomi. Poi un'altra questione è che si fa magari tanto proselitismo per il momento climatico, però nessuno evidenzia che il 5G, a quanto riferiscono gli esperti, può praticamente interferire con la capacità di individuare in anticipo gli eventi climatici avversi. Poi ricordo solamente un aggancio all'attualità molto importante, cioè che lo scorso 27 ottobre sono più che raddoppiati i limiti di esposizione alle frequenze elettromagnetiche con l'approvazione di un emendamento che è stato posto all'IDL concorrenza. Un ulteriore rialzo potrebbe avvenire tramite lo stesso meccanismo, cioè tramite delle proposte di modifiche a disegni di legge che poi non c'entrano nulla tra l'altro con il 5G. Se si innalza il limite di esposizione alle frequenze elettromagnetiche, non vuol dire certamente che il 5G improvvisamente diventa più sicuro, ma solo che siamo ancora più esposti a una tecnologia che non conosciamo a sufficienza e che dunque dovrebbe quantomeno essere trattata secondo il principio di precauzione. Diciamo che sul 5G si è parlato, tante volte devo dire anche a sproposito se ne parla, e alle volte invece si propone come se sia una cosa molto sicura, che non c'è nessun problema. Io leggendo dell'articolo funzionerà il 5G utilizzando in maniera combinata diverse frequenze. alle frequenze già in uso, quindi è vero che in parte verranno usate le frequenze già in uso, però se ne aggiungeranno delle altre, mai utilizzate sino ad ora, con le intensità e l'ampiezza geografica di esposizione previste dall'implementazione del 5G. Ecco, e si parla, e questo è impressionante, secondo le stime di Agicom, la densità di dispositivi connessi in ricezione e trasmissione, si parla di un milione di dispositivi per chilometro quadrato. Quindi, insomma, dottoressa, un milione di dispositivi per chilometro quadrato, già il nostro cellulare normalmente, ci hanno sempre detto, anche quando non c'era, c'era ancora il 3G, che insomma poteva essere pericoloso usarlo per troppo tempo tenuto attaccato all'orecchio. Se mettiamo un milione di apparecchi, dispositivi che lo ricevono, trasmettono ogni un chilometro quadrato, insomma, in quel chilometro quadrato ci sarà una concentrazione di onde di frequenza, non lo so, inimmaginabile. Sì, infatti uno dei problemi che si evidenziano è proprio quello della sovraesposizione, sia come dicevo prima, perché ci sarà una copertura poi che è capillare, e sia, come diceva lei, per la presenza di tutti questi dispositivi. Sicuramente uno degli argomenti di chi promuove il 5G senza farsi domande è che non si può dire sempre di no, non si può frenare la tecnologia o cose del genere. Cioè qui, secondo me, non si tratta né di dire sempre no, né di voler a tutti i costi essere contro un qualcosa che può permettere alla fine di progredire. Il punto è che praticamente bisogna tenere sempre a mente, quando si applica un qualcosa di nuovo, questo principio di precauzione, che comunque obbliga e decisoria ad avere prudenza nelle scelte quando queste possono portare comunque a ripercussioni sulla salute delle persone. Non riguarda ovviamente solo il 5G, ma qualunque cosa ha bisogno di studi più approfonditi prima di essere applicata. Ecco, a proposito delle onde millimetri di cui lei parlava prima, insomma, è sempre dell'articolo, hanno la capacità di stimolare la proliferazione cellulare, alterare i meccanismi funzionali delle cellule, alterare addirittura l'espressione genica e indurre aneuplodia, che sarebbe un'anomalia cromosomica, insomma. E avere effetti sugli insetti, le donne in gravidanza. Però c'è anche un rischio, ecco appunto, che è anche importante, non è un rischio direttamente collegato alla salute, ma la violazione della privacy e di quant'altro, perché dati personali e addirittura qui ci si cita che è un problema di sicurezza nazionale. Perché anche perché con il 5G si implementeranno le telecamere a riconoscimento facciale, i microfoni in giro per le strade. E sicuramente anche questa benedetta o maledetta identità digitale, tanto spinta dall'Unione Europea, sul quale dovrebbero poi confluire tutti i nostri dati e presumibilmente si finirà anche il nostro conto corrente, visto che stanno smaterializzando i soldi, stanno eliminando il contante. Per esempio qui a Roma il Comune per certi servizi non accetta più il pagamento in contanti, per quanto sia, questo sia contro la legge italiana, insomma, la stessa legge italiana. Quindi c'è poi il pericolo che con il 5G, questa velocità di trasmissione in tempo reale, ad altissime velocità, anche i nostri dati possano essere, insomma, a rischio. Sì, c'è un problema che riguarda sicuramente la privacy e la sicurezza dei dati, anche, come sottolineava lei, la sicurezza nazionale, perché comunque le aziende che sono in corsa per lo sviluppo a pieno regime di questa tecnologia sono comunque estere, c'è molto, diciamo, della Cina, ci sono comunque stati esteri che ci tengono, diciamo, ad allungare i loro tentacoli, un po' ovunque, questo quantomeno destra un po' di preoccupazione, anzi, un bel po'. Come tutte le cose ha bisogno, ovviamente, di essere in qualche modo regolarizzata, però questo non può avvenire se si pensa, senza porsi nessuna domanda, a una mappatura capillare di tutto il territorio, a installare, diciamo, anche freneticamente delle antenne, quindi a sovresporre la popolazione a tutti i possibili rischi che sono connessi, che comunque sono evidenziati dagli esperti. Eh sì, anche perché, diciamo, anche una cosa che i 5G ad oggi, insomma, non sono in tanti ad utilizzarlo, e per gli usi personali penso veramente poche persone, non tante, insomma, la maggior parte continuano ad usare il classico smartphone col 4G. Poi c'è questo problema delle onde, sempre leggendo dalle onde millimetriche, dal suo articolo, che, insomma, si discute molto, molti dicono che gli alberi danno fastidio al 5G, per questo motivo stanno abbattendo tanti alberi, per far sì che il 5G sia, insomma, libero di trasmettere. Ma cosa dice, praticamente, le onde millimetriche... Al prossimo episodio